Avventure Iron Man Maschera di ferro Digimon Allora dobbiamo andare qua Ci siamo Non mi ricordo qua Allora questo qua è Il danno ricevuto riduce l'oro e i risparmi a salute Rigenerazione fisica Per l'attacco e la difesa Combattimento a distanza più 51% Eh Siamo messi abbastanza bene Dobbiamo portare lei dal suo amato Per ora non c'è nulla di Siamo devastanti Questa è al 50% Di possibilità di trovare cose rare Voglio dire ci sta eh Ci sta ancora abbastanza Siamo un po' debolucci sotto l'aspetto Dei livelli Pugnale Mi sta abbastanza bene Beh 4.500 Boyacan Sì Quale è il problema Tori eh Tori Antivipera Da queste parti non corrono alcun pericolo A meno che ovviamente Qualcuno non mi voglia far montare a cavallo Ma che tipo Siamo proprio dei tipi Da pub eh Da lontano toglia un po' qua Però abbiamo un ratio Veramente veramente alto Il ratio è veramente Veramente Ma veramente alto eh Ma questa che cazzo è Stava minchiata Veramente ne voglio fare in culo Pugnale della tigra In altro 1.600 Può anche stare dov'è Uh Elfio scuri qua Eh devastanti siamo Siamo De Vasta E tu Spettro Spettro ci interessa poco Però Ok la strada è di qua Salviamo va Questa è deboluccia A chi ha tirato Il tempo che lei tira la freccia L'ho già distrutto Toro Riusciamo ancora a difenderci benino eh Riusciamo ancora a difenderci benino Le viverne sono cattive eh Però siamo abbastanza fortini Non abbiamo problemi di sorta Siamo messi abbastanza bene Eeeh Terrore Questo ci serve sempre Non per noi Ma per appunto cambiare Storia Fatemi solo vedere una roba Se qua Ah non è ancora finito Devo installare Diablo 2 Che poi porteremo in Tutti sti pugnali di merda Pozzone minore del bentone Sì mi piace Le useremo poi a tempo debito Quando saremo In zone ben più ostili Per ora niente di particolare Tu Comunicare il caccio Le truppe di vola Non possono aiutarci In questo momento A causa delle solute Verso nord ovest Di qua Qua? Qua? Vabbè E tu? Nostro popolo Bisogna aiuto Gli elifi del popolo Di ghiaccio Hanno occupato Le nostre isabili Accetto Porco giuda Accetto solo Perché così Ci portano lì Arpia Arpia arriva Una merda di arpia Scudo di giuda Oh vi dirò Oh vi dirò eh Che qua Sta andando bene 5.000 5.000 3.400 3.100 Eh quelle cose lì Potremmo quasi cominciare Forse C'è qualcosa che non va qua eh Madonna Che sto vedendo lì Oh dai Nei che mi ammazzate Eh me l'avevo ammazzata Guarda te Oh Per aver messo Della roba del genere Qua devono aver Viene Sono morte tutti Ma guarda te Che fatica Per 4 schifi Per un cazzo Tra l'altro Qua è uscito qualcosa eh La missione Non è fallita Però c'è anche un mercante Lì eh Questa la usiamo Al nostro vantaggio Ah già Che hanno le spade laser Gli elfi Sciabola Boh Niente di particolare Sinceramente Ora scopriremo Se sei un degno avversario Marco giudo Ricordami perché lo sto facendo Ricordamelo che mi sfugge Momentaneamente Perché lo sto facendo La parte bella è che dopo al ritorno Ci sarà lo stesso casino Oh signore Boia Creen Sono forti questi Oh la frusta di culo qua Non è male La frusta Non è male 3.100 900 Via 2.200 2.800 1.400 Via La pistola oggi è silenziosa Bravo giovane Siamo una bella squadra Con noi eh Allora col corpo a corpo Loro essendo tutti corpo a corpo Non facciamo fatica Ad arrivarci eh Ciao C'è Vedo che altri passeggeri Al fine hanno trovato qualcuno Disposto ad aiutarci Sono dei fanatici Sono abili Come attività avvicinata E posso ricavare Potere degli dei Ok E cosa stai calma Che io qua sto lavorando Sono qua per giocare Primo Ne ho usate parecchie Però eh 1,2,3 Non va bene Minchia Guarda lì dove cazzo Devo andare Ma chi me l'ha fatto fare Me lo ricordate? Fammi salvare Va per l'amore del signore Ehi Eh sono al 22 questi qua eh Voi 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 Non va bene Ehi Lui Di solo a me lo so qua no 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 dai 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 vai 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 no me l'hanno ammazzata gli infami spostati questo non arriva nemmeno a noi guarda eh la pistola ragazzi è la nuova fai cazzo che molti li schifano eh lontano così non è molto buona quando che sta vicino lo distruggiamo eh non vedo niente e me l'hanno ammazzata anello dei canti guanti d'arma in decomposizione uno schifo mortale che butto 1321 ah bravo bravo che me l'ha ricordato bravo sto pompando tanto sulle armi a distanza adesso porco giuda ora scopriremo se sei un tegno avversario giovane giovane ne hai da fare di mangiare di pasta asciutta puoi anche levare delle palle eh no cosa mi ha dato porcheria mi sembra vero porcheria dai dai mh 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 lancio dei servi lancio dei servi e che 8500 3200 8000 fischia ma resta cacata la teniamo la teniamo ok non ci rimane che tornare indietro da dove siamo arrivati da dove siamo arrivati e me fa già bene così eh adesso devo andare qua vabbè 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 Ficchia Subito qua siamo Sì ma io qua non c'ero mica andato Oh no mostro Lascia stare Scudo Cazzo di orsi Agli orsi così Boia Faust Cioè ma pensa te che fatica mi fa fare questa gente Che poi è un favore che sto facendo io a loro Eh questo è forte Matura non c'è nulla che mi interessa Armi Vicchia Vicchia Allora vediamo un po' di fare Bene stavolta Facciamo di movidità Una E va al 55 E poi ne abbiamo Questo qua Che vendiamo E abbiamo 363.000 Mi chiamo a ti rendi conto No Prendiamo un attimo Attacco multiplo No me ne frega un cazzo Però lo prendiamo Dai Lo prendiamo Solo Per questa volta Scusate Fatemi solo vedere Una cosa Veloce Cosa ho bevuto Guarda Non posso uscire di là Devo fare tutto il giro Non è forte questo Però mi servirebbero Delle cose Un attacco molto forte Allora si Come mai Non c'è di questo Minora del mentone Si Oh crista signore 24 24 E niente Me lo ammazzano Sciabolona Abbiamo già Preso un bel po' di cose Cioè questa vive Già morta Sono lì dentro Io li lascio lì dentro E mi faccio Gli affari miei Come sempre Prima Trasfiniti Morire Parei Cazzo è sta roba No è tornata in vita L'amica Penso che non ti ho visto Pensi Che cazzo ho fatto Vabbè Non è proprio andato male Male Distruttito il capitano E tutto in discesa Niente Lei è morta di nuovo Annello dell'impeto 1426 Cominciamo Comincio Pezzo di merda Niente Ha dovuto fare Sì ma non è ereditato Niente Amuleto dell'aggressore Guarda Il 67 Protegge Sta cagata Mi vai a fare In culo Pozione minore Acciaio di nano Cazzo è acciaio Lasciamo i contadini Acciaio di nano Ah 1 2 3 Salva partita Subito Bigenerazione Bigenerazione Tecnologie Delle armi L'attacco A distanza Carisma Stiamo andando Molto sul commerciale Perché ci serve Per Vabbè Ma non è possibile Questa missione qua Mi aspetto una ricompensa Io Forse se io avessi Quattro mani 1.800 Via 7.000 2.000 Via 2.400 Via Eh Toglie anche lei Eh Però Ha un bel danno pure lei Niente da dire Cristo Signore Minchia Due draghi No 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 Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ma non ce la posso fare Ma non ce la faccio Non ce la posso fare Due draghi Lascio stare Porco giuda Porco giuda Forse Sì la ora toccate minchia Gesù no dai no dai ma pensa è difficile così così è molto difficile troppo difficile è impossibile a questo livello riuscire a fare una roba del genere adesso vabbè ci concentriamo su un'altra roba va andiamo lì e basta facciamo sta missione poi se riusciamo torniamo se non riusciamo non torniamo si ma ma i draghi già sono un dito nel culo indifferente forse se riuscissi a buggarlo magari si magari si ma non riesce a buggarlo avessi avuto la doppia arma moschetto toglie di più senza dubbio che ci espone però le varie cose vabbè subito questo qua lo mettiamo qua eh 1321 non ne ho un altro vero 1426 2636 lo compro il fabbro è qua vicino si vediamo allora adesso è 115 156 2636 poco eh ho fatto da cazzata 2434 2434 si potrei anche dargli un po' di protezione danno 1426 più 5% d'attacco va bene va bene ho cambiato ben poco ho cambiato poco ho solo sprecato un sacco di risorse per un cazzo ho solo sprecato risorse per un min la min ah me lo merito adesso siamo al drago drago danno madonna quanta roba c'ho se troviamo la pistola più veloce allora vediamo probabilità di infliggere un colpo critico beh 15% vi sta bene prima che un drago potevo gestirlo un drago ma 50 no c'è due draghi neanche per sbaglio riuscivo a gestirli un po' di esperienza non fa mai male hanno coraggio questi qua però che si toglie no proviamoci chiaro potrei provarci senza buttare giù i draghi potrei provarci senza buttare giù i draghi però non sono probabilmente sicuro di potercela fare peccato che ha pochi bonus sta cagata siamo al 22 tre livelli e comunque noi che abbiamo pochi livelli in meno cioè tanti livelli in meno più che altro siamo molto vicini eppure ci hanno fatto un culo così ma un culo fuori dal mondo eh neanche quadrato cubico 23 i normali al 23 li sciogliamo proprio poi sapete cosa gli facciamo pure un cazzo di danno a sti draghi maledetti ma proprio poco io intanto mi levo dalle palle lei che aiuta eh non c'è dubbio che aiuta cazzo di qua grazie a te parla con la mia fattucchiera sharifa della tua nuova missione purtroppo rivelare il tradimento di The Morderey non c'è d'aiuto ho appena ricevuto notizia che mio padre il re Arnum è morto ora The Morderey ha il controllo del regno non mi piacciono i cerimoniali andiamo a scoprire perché gli orchetti stanno invadendo le nostre terre non voglio gustare nulla sono di trovare gli sciamani degli orchetti di Korad Nur a quanto fa Korad Nur la roccaforte desertica degli orchetti oh signor guarda lì guardate guarda guarda quanto ero vicino guarda a quanto ero vicino a finire con la missione di merda dove mi ha vabbè voglio dire non è andata così male eh tutto sommato ce la siamo cavata abbastanza di qua lo vendo lo vendo lo vendo lo vendo combattimento a distanza più uno calcio da combattimento 14 21 questa cagata non mi piace però ma ti metto a distanza si c'è una cosa di raro 110 questo livello 11 livello 23 17 quello è molto speciale sempre a me oh mortagli più uno più otto d'attacco fa anche cagare sinceramente fa anche un po' cagare sinceramente livello 9 non morto danno al marino a fuoco più 4% attacco ok ci diamo un bel 49 un 36 piacerebbe anche dagli attacco ma è un 35 cioè dire che fa cagare lo stesso 163 24 guagli orchetti mi piace cioè sono entrati nessuno si è accorto di niente per uno scudo di merda scudo di merda non tanto guarda resistenza guerriero risultare resistenza fisica carisma 62 rispallacce 66 67 peccato che ha questo resistenza alla maggiore senza difesa velocità e generazione fisica più 16 per cento attacco guanti 27 per questo 58 siamo ancora messi meglio 15 24 facciamo che io tutte ste cacate di livello via 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 lo compro un po' di di cagate le devo avere anch'io salvo e vediamo di fare qualcos'altro andare qua giù in mezzo in mezzo al deserto va bene ma fai attenzione una cosa un'anello di merda del genere questa al 24 gli altri erano al 5 intanto uno l'hanno seccato vai a lavorare speccio oh loro mi piacciono molto vicchia quella crepa tu va ha un rateo sta roba devastante che cazzo di cazzo 71 60 13 21 niente di che è questa però senza la magia di svecità è roba abbastanza buona prendi questo progenie guarda colpiamo lui brucia appena guarda ci ha dato solo un casino di oro niente di che questi qua al 21 va bene ma come cazzo entro da qua chi sparava sto pazzo pistola mi piace da pazzi è anche molto rara come pistola però non riusciamo mai a no vorrei tra l'altro prima che salvare vorrei aumentarvi anche un po' il volume adesso basso un po' le cuffie a me perché altrimenti divento scemo basso sì giovane tugliali di merda e come ne faccio i tugliali di merda chi ha dobbiamo migliorare tantissimo lo scudo ci da sì più danno ma è totalmente inutile così ci da un po' più di danno ma non mi aiuta come dovrebbe come amico apriamo le danze e vediamo se stavolta il drago lo facciamo fuori mucchia ora scopriremo se sei un tegno a tassi minuto guarda lì ora s'è migratorato del primo Devo prenderlo sulla distanza Per l'amor di Dio Vai Per l'amor di Dio Per l'amor Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio C'ero schivato? Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio Allora li uccidiamo tutti piano piano Salviamo qua per l'amore del Signore Ok No Vabbè abbiamo colpi impediti Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio a Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio ok li attiro tutti e poi piano piano li buttiamo giù tutti e poi ci rimane solo il drago ci rimane solo se va anche buttare li via ok 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 ora scopriremo ora scopriremo questo incendio avversario Giovanni ora che sono qui ho sperato il fuoco eh ora scoprivo non ho volto poco lito ho ora scoprivo ora scoprivo ok 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 è troppo facile non dire cazzate cioè stiamo cavando egregiamente eh micchia vai vai che ti faccio piano piano sembra proprio che le dimensioni non continuo uuuuuh uuuuuh qua droppiamo roba proprio a proprio a iosa a iosa a iosa 70 spallacci della redenziono 2.500 4.200 2.000 via via i quanti d'arme 20 non mi frega un cazzo sinceramente amuleto lo vendiamo 8.500 4.000 resistenza al fuoco eh resistenza al fuoco mi interessa eh difesa velocità resistenza al fuoco 40% interessante eh contro i draghi è interessante contro i draghi ora li senza al fuoco cosa sta succedendo qua non sprechiamo polveri ma che è sta roba qua ora me ne vado via come un missile dove va quella per minca ne usate un bel po' di pozioni eh ok è bello meditazione mi piace 70 70 30 70 80 ci sono quasi chi è il pazzo che ha provato il progetto di questo posto via 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 e mi tengo quelli 71 mi piace eh però come danni non ci siamo parmi niente di particolare armatura meno che meno 12.21 siamo quasi full set eh 25 mamma mia che porcheria mamma mia che porcheria mamma mia che porcheria Questo va già Resistenza di combattimento a distanza Più 45 vicende L'attacco Esperienza ottenuta Di mezzo Resistenza Resistere Lo store diventa 51 25 E me ne manca pure 1 Gli diamo Protezione 19 9 16 25% L'attacco Protezione Danno 14 22 Ah no Però poi Eh Cristo Beh poi Posso sacrificare Devo ricordarmi Di fare sempre la stella Devo ricordare Di fare sempre la stella Eh oh Questo va lo facciamo fuori Dai Beh un bel bonus Ti do 1 Ti do 2 Ti do 3 E ti do 4 Per Avidità mi piace Però mi piaceva di più lancio fiamme Che la sto usando buono 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 Mortaio Lancio fiamme 116 116 174 E aumenta parecchio Eh Tacco multiplo Va bene Ma dentro il villaggio Non è solo l'incendente 25 Mamma mia Non è solo uno Vero Non è solo uno C'è la patata Non è solo uno Vabbè andiamo a vedere la missione Poi molliamo Dai C'è 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 Quel corno C'è un video Sono disperati pure loro Perché non sanno come combatterla Andiamo dal principe Valor A Brave Rock Oh madonna Belle vue Mascarell E anche lontanamente Corrad Nur Escreate Pass Stavo lontani ma non troppo Vabbè Direi che ci possiamo vedere Nel prossimo video Ciccaciao 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 Ciccaciao